Siamo venuti così numerosi oggi a sostenere la nostra manifestazione. A nome della comunità ucraina vorrei ringraziare l'autorità militante come organizzatori e tutta la sua popolazione dei tre punti fermi perché in questi giorni noi abbiamo sentito dalle canali televisive punti fermi che dobbiamo ribadire. Prima su una motivazione. E ci fa tanto piacere che... Questa narrativa della propaganda russa che abbiamo sentito anche qua in Italia che la Russia è preoccupata per l'aggressione da parte della Nato è tutta una falsità. Un paese neutrale per la sua costituzione. Ma ben otto anni fa noi siamo un paese pacifico però quando le bombe cadono sulle nostre città e ammazzano i nostri cittadini noi dobbiamo difendersi. se in questi lunghi otto anni abbiamo avuto questo conflitto in Donbass che si è fermato lì perché quando siamo stati aggrediti nel 2014 il piano della Russia era conquistare otto regioni dell'Ucraina tutto l'est e sud e loro sono riusciti di occupare solo una parte delle due regioni. e poi altra narrativa che sentiamo anche giorno d'oggi che è l'Occidente alle che è l'Occidente